Musica Buona serata, bentrovati, siamo in diretta. Il fatto del giorno vi dà il benvenuto fino alle 19 insieme per uno speciale, davvero unico. Parliamo di conclave che è iniziato poche ore fa, abbiamo seguito il giuramento dei cardinali che sono entrati nella Sistina, ora si è chiuso per il lavoro appunto dei cardinali che devono stare, ecco queste le immagini, devono stare assolutamente tranquilli e nel segreto poter votare, scegliere quello che sarà il nuovo Papa. Il mondo attende il nuovo Papa, abbiamo scritto, oggi ci si aspetta una fumata nera, vedremo come andrà a finire con noi. Questa sera Anna Maria Braccini, la nostra giornalista, buonasera, bentrovata. Buonasera, grazie. E un altro collega, Alessandro Zaccuri, giornalista di Avvenire. Grazie di essere qui. Signori, allora una giornata davvero speciale, anche domani il nostro fatto del giorno parlerà di conclave, per un conclave che si preannuncia quanto mai aperto. Ci sono almeno quattro papabili che più di altri dovrebbero dettare la linea. Voi come la vedete, Braccini? Ma certamente iniziamo a dire che lo dicono tutti, ma è vero, la giornata oggi è stata storica, dopo le tante giornate storiche che abbiamo vissuto in questi ultimissimi periodi, diciamo da lunedì 11 febbraio quando Benedetto XVI ha detto che avrebbe dato l'addio alla sede Petrina e poi il 28 di febbraio quando abbiamo visto quella di Cotto alzarsi in volo. Certamente oggi inizia questo momento che porterà al nuovo corso. Hai detto bene, il giuramento, i 115 cardinali, ricordiamo che hanno diritto al voto perché sono sotto gli 80 anni, sarebbero stati 117, due hanno fatto, diciamo così, era stata resa possibile la loro assenza, è stata accettata l'indonesiano Dharmat Madia per motivi di salute e lo scozzese Kevin O'Brien appunto per condotta, diciamo, di tipo sessuale, non adeguata. Vabbè, lo sappiamo tutti, l'abbiamo visto. Una curiosità, se posso dirlo, è che in verità c'è dentro il conclave, tra gli elettori e adesso dentro la Sistina, uno che abbia compiuto 80 anni ed è il cardinale Walter Kasper, che è il presidente merito del Pontificio Consiglio per l'Unità dei Cristiani, che ha compiuto 80 anni il 5 marzo scorso, cioè la settimana scorsa, ma il 28 febbraio è la data che fa testo, quindi il 5 marzo non aveva ancora 80 anni. A cavallo, no? A cavallo, sì. E il più giovane tra i cardinali in Sistina in questo momento è indiano ed è di nascita del 1959. Questo conclave è quanto mai interessante perché consente davvero diverse letture, è una chiesa che cerca un rinnovamento, ma a differenza del precedente, dove già il nome di Ratzinger si era fatto e si voleva forse dare un po' di continuità, poi c'era la presenza fortissima del Papa precedente, adesso ci sono diversi aspetti. C'è chi la vede più sulla questione della fede, della chiesa, che va ritrovata, sull'unità della chiesa. C'è chi invece tende a leggere questo conclave sotto forma geografica e quindi l'apertura agli Stati Uniti. Ci sono davvero tante cose, tante letture possibili, no? Beh, alla fine sarà una grande sorpresa perché il conclave ha sempre questa caratteristica che, come dire, sollecita le previsioni e contemporaneamente le vanifica, ma le vanifica anche quando magari sembra che si realizzino. Nel senso che la caratteristica di questo conclave, secondo me, è quella di essere molto simile a quella esattamente di 50 anni fa, nel 63, perché anche allora c'era un grande Papa, Giovanni XXIII, che aveva lasciato interrotto, diciamo, un'impresa. Era l'impresa del Concilio Vaticano II. In qualche modo la rinuncia al Ministero Petrino da parte di Benedetto XVI va in questa direzione, cioè va nella direzione, appunto, come ricordavi tu, anche di quest'opera di riforma. Insomma, tante volte Benedetto XVI ha parlato di necessità di riformare la Chiesa, la Chiesa si riforma e non si rivoluziona, perché è una realtà più complessa delle realtà umane. Io ho avuto l'impressione che il suo gesto di rinuncia sia stato un gesto che abbia sottolineato nei fatti questa volontà di riforma e il prossimo Papa, che senz'altro ci stupirà, che senz'altro sarà sorprendente in quello che farà, comunque io credo che abbia il compito di dare continuità a questo gesto che è un gesto veramente storico. Ecco, è verosimile parlare, appunto, visto che si parlava di riforma, la voglia di cambiamento, stare a quanto ricostruiscono un po' i giornali e i gossip di Palazzo e che quindi dividono il conclave proprio in schieramenti, cioè il cardinale X che raccoglie tot voti, il cardinale X. Non credo sia così semplice, sono forse delle semplificazioni. Non è così semplice, certamente, prima di tutto perché, come accade sempre, se si divide in due schieramenti la semplificazione è immediata. Diciamo, prima di tutto ci si è un po' accaniti in questo circo mediatico, ma, d'altra parte, 5.000 giornalisti accreditati da tutte le parti del mondo devono lavorare e quindi devono raccontare qualcosa. Detto questo, la schematizzazione è evidente, tanto più che se uno guardasse anche il Coté nordamericano, cioè i grandi giornali americani, vedrebbe, le grandi agenzie di stampa, vedrebbe che, per esempio, gli italiani sono considerati, tu curi, italiani. Cioè, non c'è una differenza fra progressisti, non progressisti, riformatori, in quanto italiani sono una specie di Moloch, mentre sappiamo, da altro tipo di gossip, che non è assolutamente così. Intanto vediamo le immagini che ci giungono dal segnale di telepace, che, appunto, fa vedere una piovosissima piazza San Pietro. Una giornata brutta, però, insomma, i fedeli sono chiaramente raccolti. Poco fa si vedeva il comignolo dal quale dovrebbe, appunto, tra poco più di un'ora, un'ora e mezza circa, arrivare la prima fumata, che però corrisponde, in realtà, secondo i regolamenti, a meno di incredibile votazione e quindi elezione alla prima votazione, a due scrutini, perché funziona così, sono due alla volta e poi la fumata per velocizzare un po', quindi quattro all'interno di una giornata. Sono regole, insomma, antiche, che però risultano quanto mai curiosi in un'epoca in cui è l'immagine a vincere, perché questo conclave sarà assolutamente visto in maniera diversa, forse anche grazie alle tecnologie, a internet, allo streaming, come dove siamo noi adesso, che ci vedono anche sul sito di Famiglia Cristiana. Alessandro? Ma sì, anche in questo io in realtà trovo... è buffo. Cioè, noi ci siamo domandati, Nonna Maria, per tanto tempo, quanto saremmo riusciti in questo anno del cinquantenario a ricordare lo spirito del Concilio. Invece stiamo tornando anche in questo sui passi del Concilio. Il Concilio Vaticano II è stato il primo grande avvenimento religioso, si diceva allora, a favore di telecamere. Oggi le telecamere hanno cambiato pelle, sono nascoste nei telefonini, rimbalzano sulla rete, però anche in questo c'è un elemento di continuità e come allora, è stato uno degli ultimi interventi di Benedetto XVI, quello di stare attenti a non confondere il Concilio come fu raccontato dai media e fu pure un racconto importante dal Concilio come è stato veramente, io credo che noi tutti dobbiamo un pochino resistere a questa tentazione degli squadri, delle squadre, dei sistemoni, del conclave, così eccetera, che, concordo con Anna Maria, c'è bisogno tante volte di riempire le pagine, di riempire il tempo e questi possono aiutare. Dopodiché lo spirito in cui questo conclave secondo me si apre è uno spirito di straordinaria essenzialità. I padri del conclave mai, come in questo caso, sono chiamati a decidere con un riferimento trasparente e molto forte al Vangelo, uno spirito di essenzialità che poi certo passa anche attraverso alcune delle cose di cui si è parlato, la Chiesa ha da sempre questa meravigliosa esperienza di umanità al suo interno con anche talvolta delle zone di fatica, delle zone di complessità, ma io sono convinto che il risultato, quale che sia, sarà un risultato, ripeto ancora una volta, sorprendente perché la persona che sarà chiamata avrà un compito che va al di là del suo carattere, della sua inclinazione e che ha a che vedere con la storia di tutti noi. Sì, perché è la prima volta davvero in epoca moderna che avendo lasciato il precedente Papa, il dubbio resta da capire per quali ragioni abbia appunto fatto questa scelta importante, unica e di conseguenza anche tutto il ragionamento che si sta facendo all'interno del conclave deve partire da lì, deve partire alla riforma senza dubbio ma anche dai problemi lasciati e di conseguenza questi buchi sono da risolvere, bisogna capire, i fedeli devono capire e quindi possibilmente scegliere la persona più adatta per risolvere, il compito arduo. Compito arduo, stamattina nella missa proeligendo Romano Pontifice che ha aperto diciamo in maniera solenne questa giornata in effetti si è avuto un momento chiarissimo nel quale proprio si è toccato con mano quello che tu stavi dicendo ora perché il cardinale Sodano che è il decano del Sacro Collegio che ha presieduto la solenne Eucaristia nella Basilica di San Pietro ha citato Benedetto XVI, lo ha citato chiamandolo per nome e oltretutto ha detto il Ministero generoso e ci sono stati 20 secondi di applausi e i cardinali che applaudono in Duomo non sono uno spettacolo direi frequente cardinali concelebranti, cioè vedere dei concelebranti che applaudono durante un'Eucaristia solenne e se non altro dal punto di vista liturgico una cosa molto particolare ma detto questo è indubitabile che come si diceva prima non devi differenziare diciamo fra schieramento A e schieramento B quasi ci fosse, mi scusino i telespettatori ma una Champions League del Papa, non si deve neanche semplificare nel senso di Benedetto XVI era così il prossimo sarà invece in un altro modo, bisogna chiaramente seguire gli eventi il concilio di cui Alessandro parlava e di cui è conoscitore estremo fu proprio questo, un divenire, un divenire via via che si andava avanti ricordo solo questo piccolo fatto, quando iniziò il concilio nel 62, l'11 ottobre i comunicati stampa non esistevano perché i lavori avevano una misura di segretezza poi i comunicati stampa cominciarono ad uscire ed erano in latino nel 65, quando finì il concilio, l'8 dicembre, erano accreditati più giornalisti di quanti ne erano arrivati per un evento mediatico globale come sono state le Olimpiadi di Roma nel 1960 certo, certo, e invece adesso tempi moderni, altre faccende ma addirittura abbiamo letto documenti che mai avremmo dovuto leggere abbiamo scoperto che all'interno delle stanze vaticane si aggirava il cosiddetto corvo insomma sono davvero cambiati i tempi ma è necessario un ulteriore cambiamento possibilmente in positivo ma devo dire la verità che negli ultimissimi io ho presente come è stata gestita anche dagli uomini della comunicazione della Santa Sede questa notizia improvvisa per molti anche di loro della rinuncia di Benetto XVI ma io ho trovato uno stile di comunicazione estremamente maturo e estremamente puntuale è chiaro che tutto quello che è accaduto negli ultimi anni ha lasciato una ferita non ancora rimarginata che è una ferita però complessiva della Chiesa rispetto alla quale quel cammino di riforma, di purificazione che era stato per così dire il manifesto di Benedetto XVI a fine delle prime battute del suo pontificato rimane veramente una missione ancora aperta detto questo però il risultato come spesso accade nella storia della Chiesa un po' paradossale da questi eventi che potrebbero ridursi semplicemente a uno scandalo che cosa nasce? nasce una grande richiesta da parte dei fedeli alla Chiesa di essere più chiese quindi una richiesta di purificazione, una richiesta di chiarezza e in questo io credo che l'opportunità di questo conclave anticipato rispetto alle consuetudini normali della successione appunto al Soglio di Pietro sia un'occasione da cogliere in questa direzione in questo senso è importante sottolineare il grande valore che hanno avuto le dieci congregazioni generali perché se un tempo le congregazioni generali erano più che altro un modo per far passare i giorni nei quali diversi cardinali arrivavano a Roma magari in tempi in cui i trasporti non erano così veloci come adesso dove il volo lo puoi prendere all'ultimo momento qui invece tutti i cardinali ovviamente vista la rinuncia di Benedetto sapevano che sarebbero dovuti venire a Roma si sapeva che probabilmente il conclave sarebbe stato diciamo avvicinato di qualche giorno rispetto ai 15 giorni che è il limite più basso possibile invece abbiamo visto che poi sono stati i 13 e quindi le congregazioni generali tutti i cardinali presenti sono stati veramente un modo per parlarsi per conoscersi tra i 115 cardinali ce ne sono certamente alcuni che non conoscono altri che magari vengono dall'altra parte del mondo che sono stati creati i cardinali nell'ultimo concistoro di Benedetto è indubitabile che questo è un conclave anche segnato dalla figura di Papa Ratzinger perché Papa Ratzinger ha fatto nei suoi sette anni e qualche mese di pontificato ha creato 90 cardinali mi pare in sei concistori e poi più che altro ha introdotto o meglio ha reintrodotto alcune norme proprio per quanto riguarda il conclave per esempio la necessità di questa maggioranza qualificata che si spinge molto avanti negli scrutini rispetto a un procedimento rispetto al quale io credo per esempio che questo lieve anticipo di due giorni nell'apertura del conclave o nella chiusura del conclave se vogliamo dirlo sia stata una mossa molto saggia perché un anticipo eccessivo avrebbe dato un'immagine di fretta un'immagine di urgenza quindi quei 77 voti devono arrivare i due terzi qualificati con in più nel rito dell'elezione del nuovo Papa ovviamente l'assenza di un funerale che bisogna dire normalmente funziona così giorni di lutto ci sono i giorni del lutto e invece questo non c'è stato comunque dovevano confrontarsi o si confrontavano nelle congregazioni generali o si confrontavano nel conclave giustamente si sono confrontati anche abbastanza a lungo nelle congregazioni andiamo alla prima interruzione ma restate con noi perché tra un paio di minuti torniamo di nuovo in diretta per questo speciale dedicato al conclave Mentre proseguono le immagini in diretta stiamo vedendo la piazza San Pietro si indugia un po' sul comignolo a volte che non è questo ovviamente però ovviamente presto non c'è ancora stata probabilmente neanche la prima votazione perché si è chiuso poco fa invece il giuramento abbiamo detto e l'extra omnes cioè tutti fuori è iniziato il conclave io farei vedere visto che l'abbiamo citato poco fa l'ha citato Anna Maria il cardinale Sodano che questa mattina in un primo di tre contributi parla proprio del pontefice generoso facciamo vedere per favore regia via miei fratelli preghiamo quindi perché il Signore ci concede un pontefice che svolga con cuore generoso tale nobile missione apre ovviamente il dibattito sul pontefice più politico il pontefice più pastore invece delle anime cosa cerca questa Chiesa moderna? cerca senz'altro una figura che vada nella direzione che forse rappresenta la linea di maggior continuità tra il pontificato già di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI quest'idea di un mondo da rievangelizzare insomma io credo che questa opera di rievangelizzazione che nel pontificato di Voetila per esempio è stata insieme azione spirituale e quanto anche azione politica possa essere veramente un modello non che nel pontificato di Benedetto XVI non sia stato anche questo lo è stato con uno stile particolarissimo che era lo stile della riflessione lo stile di una parola forse più introspettiva e meno invece spettacolare nel senso più positivo del termine come ci aveva ci aveva abituato Giovanni Paolo II cerca un pontefice con un suo stile secondo me che andrà trovato anche rispetto a tutto quello che dicevamo prima anche rispetto a un mondo della comunicazione sempre più articolato sempre più ramificato non è il primo conclave dell'era di internet è il primo conclave dell'era di Twitter questo per esempio con il divieto assoluto di comunicare è una cosa curiosa perché di tutte le diciamo cose che si sono approntate di tutte le misure per tenere la segretezza del conclave e cioè anche misure estremamente tecnologiche non so il pulmino che accompagna e che porta i cardinali da Santa Marta alla Sistina dalla Sistina agli appartamenti in Santa Marta è addirittura schermato nel momento diciamo del trasferimento da due vetture che sono state diciamo modificate proprio per l'occasione poi ci sono addirittura tecnologie che sono usate in luogo di guerra io ne parlavamo utilizzano in Vaticano credo per la prima volta il jammer che è un apparecchio straordinario che io ho scoperto esisteva in Afghanistan sui lince dei nostri militari cioè che scherma qualsiasi ingresso o uscita di interferenze radiofoniche o telefoniche quindi qualcosa di straordinario la gabbia di Faraday che mette a riparo da cimici eventuali e da qualsiasi possibilità di onda elettrostatica è stato ampliato fino a Santa Marta non solo lo spazio della Sistina ma fino a Santa Marta ma di tutto questo la misura delle misure ovviamente per chi crede ma insomma c'è da sperare che i cardinali di uniti in Sistina abbiano un occhio anche a questo la misura delle misure è la scomunica immediata cioè chi riuscisse a collegarsi con i social network legge i twitter immediatamente ha la scomunica che è come dire a postare un tweet ci si mette davvero poco però la scomunica arriva prima scomunica moderna che arriva con un click praticamente l'attenzione però adesso appunto diciamo politico o pastore c'è un po' l'impressione una lettura forse più semplice per il fedele medio diciamo che la chiesa non sia riuscita a completare un lavoro per cui o c'è un papa che è propenso all'attenzione appunto alle masse alle folle allora alla spettacolarizzazione ottima straordinaria di Giovanni Paolo II oppure invece debba risolvere nodi interni e allora c'è la questione dello IOR ci sono questioni di scandali ovviamente sessuali e non che hanno contraddistinto gli ultimi anni e allora si cerca non si riesce a completare il cerchio o si guarda fuori dalla finestra o ci si guarda all'interno ci vorrebbe invece una figura forse che riesca a chiudere questo cerchio credo che sia una contraposizione che può venire istintiva ma non reale sinceramente credo che nella storia della chiesa sono sempre andati di pari passo questi due elementi cioè una presenza della chiesa diciamo così al cospetto del mondo e un lavoro invece della chiesa appunto sempre reformanda che sempre ragiona su se stesso riconosce il proprio limite e cerca di ridurlo il più possibile per avvicinarsi al modello che è Cristo quindi io credo che questi due aspetti oggi più che mai saranno presenti faccio notare una cosa in termini statistici è vero che noi abbiamo in mente per esempio Giovanni Paolo II come il papa delle folle è anche vero che negli ultimi anni è cresciuta straordinariamente la presenza dei fedeli alle udienze generali di Benedetto XVI che quindi non sempre si ottiene lo stesso effetto con lo stesso strumento un papa così riservato diciamo come è stato Benedetto XVI ha saputo conquistare ha saputo conquistare il cuore dei fedeli e ha saputo più che altro colpire molto anche i non credenti con questo suo gesto c'è proprio stato perdone Maria poi commenta anche questo questa mattina Sodano che ha parlato di evangelizzazione visto che parliamo di quello cioè quale è il metodo migliore il modo migliore il lavoro della Chiesa continuo vediamo per favore regia il secondo contributo di Sodano viene l'evangelizzazione quindi diventa la più alta integrale promozione dalla persona umana ecco qui il commento preciso questo è particolarmente interessante perché se consideriamo che la tredicesima assemblea ordinaria dei vescovi che ha riunito alla fine di ottobre 122 padri sinodali a Roma rappresenti anche il cardinale Scola come padre sinodale ha proprio avuto a tema la nuova evangelizzazione indica che come qualche osservatore particolarmente avvertito e acuto aveva già sottolineato probabilmente papa benedetto ha anche tratto molti insegnamenti e molto da quell'assemblea dei vescovi in cui è apparsa certamente una chiesa molto più larga della chiesa vaticana diciamo così questa era una prima osservazione per quanto invece diceva prima anche Alessandro del papa delle folle del papa un po' magari chinato su se stesso ripiegato su se stesso non è una cosa nuova se pensiamo all'alternanza tra Giovanni XXIII il papa buono il papa delle grandi masse il papa di cui e io non smetto mai di stupirmi ancora trovi il ritratto magari in certi luoghi in certi negozi e invece il successore Paolo VI papa considerato estremamente appunto silenzioso ripiegato su addirittura si è parlato su una certa amleticità di se stesso e poi invece Giovanni Paolo I è stato papa davvero per troppo poco non possiamo saperlo Giovanni Paolo II papa delle folle Benedetto XVI quindi c'è un'alternanza c'è un'alternanza pochi ricordano che Paolo VI questo papa amletico così in fondo è il primo che ha iniziato a viaggiare per il mondo e una massa straordinaria di gente per esempio lo accolse a Manila in Terra Santa quindi come in tutte le cose bisogna stare un po' attenti alle generalizzazioni e su tutto per noi lombardi e milanesi tema dei temi è quello del cardinale Angelo Scola che a quanto dicono appunto i beninformati poi bisogna vedere perché i bookmakers adesso ci si mettono a dire la loro sarebbe uno dei papabili che in assoluto già in partenza raccoglierebbe più voti all'interno del gruppo degli italiani sarebbe visto come più riformatore rispetto invece ai romani e quindi insomma qualcosa davvero straordinario che coinvolgerebbe la città di Milano ma non solo in modo unico o da diverso tempo ormai perché non accade questo un fatto del genere non accadrebbe da diverso tempo è possibile questa cosa secondo te? se è possibile sì insomma quello che si legge ci sono appunto questi voti che si stanno sommando colpiva una riflessione un po' a livello di curiosità così come per il tramite appunto di Albino Luciani Giovanni Paolo II ha messo insieme il nome e anche un po' lo stile forse dei due predecessori era stato Giovanni Paolo I appunto a scegliere apparentemente di non scegliere ma di accomunare queste due figure è vero che i grandi papi italiani gli ultimi papi italiani sono stati uno il patriarca di Venezia e l'altro l'arcivescovo di Milano in questo caso avremmo come dire una coincidenza un allineamento ecco nella stessa persona e potrebbe essere un altro elemento di sorpresa e di curiosità però questo lo vedremo i prossimi giorni si chiamerebbe sempre secondo Leone quattordicesimo perché poi c'è la questione del nome curiosissimo anche questo grande curiosità sul nome ma lo sai perché i papi cambiano nome i papi cambiano nome perché nel momento in cui diventano successori di Pietro così come a Pietro fu dato il nome appunto diciamo in italiano di Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa chefa che fa in greco che vuol dire appunto pietra in verità si chiamava Simone quindi nel momento in cui viene investito del ministero di annunciare il Signore di essere il primo degli apostoli il Signore Gesù gli cambia nome e allora hanno cambiato nome entrando appunto salendo al soglio di Pietro la questione del nome certamente se dobbiamo dire Leone XIII fu un papa piuttosto deciso e un papa considerato all'inizio del suo pontificato certamente un papa fortemente riformatore pensare a Ron Novarum delle cose nuove del mondo che ha segnato un punto di partenza e di non ritorno sulla dottrina sociale della chiesa intanto vedendo sempre le immagini in diretta da Piazza San Pietro cala il buio ovviamente sulla piazza vedo ombrelli chiusi quindi evidentemente non piove più in attesa della prima fumata dovrebbe arrivare intorno alle 19.30 stando a tradizione e quindi già vi comunico che anche il nostro TGN a partire dalle 19.15 in diretta seguirà assolutamente quanto sta avvenendo con un occhio a quel comignolo eccolo là in lontananza sulla prima fumata 30 metri di altezza che dovrebbe appunto secondo le previsioni essere nera cioè non decretare una scelta per un conclave che si preannuncia piuttosto breve stando almeno a quanto si dice cioè un paio di giorni e quindi un numero di votazioni nella norma e non né lungo né brevissimo insomma stando nella media dei due giorni è possibile questo? penso proprio di sì senz'altro il lavoro delle congregazioni è servito a come dire chiarire le posizioni e probabilmente anche a far convergere alcune a far convergere alcune convinzioni comuni io non in realtà quello che accade in conclave noi non lo sappiamo mai la cosa bella di questa storia è che noi vedremo le fumate ma non sapremo quanti voti quanto manca magari lo sapremo tra qualche anno se non ricordo male c'è un meccanismo un po' singolare per cui insomma la segretezza a conclave ultimato è gradita ma non necessaria ecco un po' a tempo dopo un pochino le cose si possono infatti qualcosa sull'elezione di Ratzinger poi nei tempi successivi era emerso per esempio del cardinale Martini che aveva avuto dei voti e poi aveva detto se bisogna stare a racconti molto però qualificati di essere malato e oltretutto della stessa malattia che aveva colpito degenerativa Giovanni Paolo II questo l'accesa non se lo poteva permettere assolutamente è vero anche se appunto sulla segretezza e sulla meraviglia che nonostante e parliamo anche di questo tra poco i film le immagini e le ricostruzioni hanno provato a portarci lì dentro e farci vedere che cosa succede ovviamente il bello è proprio che nonostante sia nel 2013 si chatti da una parte all'altra e al mondo quello che succede lì non lo possiamo sapere e quindi vivere questo grande evento così come viene e lo faremo ancora in diretta tra poco dopo l'interruzione pubblicità di nuovo in diretta abbiamo visto per pochi minuti in realtà quanto è stato l'allestimento della Cappella Sistina all'interno l'arrivo dei cardinali pronti per eccole qui che entrando hanno trovato posto secondo un elenco ben preciso e poi hanno fatto il giuramento che anticipava poi l'uscita di tutti gli altri per consentire la prima votazione sui giornali e sulle televisioni di Mezzomondo in questi giorni si sta facendo la ricostruzione dettagliata di quanto avviene lì dentro di come sarebbe stata allestita la Cappella Sistina di queste due stufe e poi una non si trovava insomma bella questa cosa dicevamo cioè in un mondo in cui si scopre tutto si guarda dal buco della serratura di chiunque e si sentono le telefonate di chiunque ecco che resta un po' di segretezza bella per fortuna che ne pensi Anna Maria? ma sì certamente è un modo anche particolare di approcciare un evento di portata mondiale perché se pensiamo non so all'elezione del Presidente degli Stati Uniti per dire un evento recente anche questo di portata certamente planetaria tutto è abbastanza noto qui in effetti si mantiene un po' di segretezza ma a proposito dell'alternanza che dicevamo prima sia alternanza dei nomi che alternanza di caratteri gli ultimi conclavi dell'ultimo secolo diciamo sono stati tutti molto brevi otto sono stati conclavi da Benedetto XV nel 1914 ovviamente da adesso 2013 e allora tre giorni per Benedetto XV 5 giorni nel 1922 per Pio X ma lì c'era una questione politica aperta molto grave 2 giorni per Pio XII 4 giorni per Giovanni XXIII e poi 3 2 3 2 giorni alternanza perfetta e se vogliamo proprio dirlo Pio X era arcivescovo di Milano così come Paolo VI quindi 2 nell'ultimo secolo arcivescovi di Milano Giovanni XXIII era Lombardo di sotto il monte in provincia di Bergamo ma in quel momento dell'elezione patriarca di Venezia e Pio XII e Pio X era anche Brianzolo Papa Achille Ratti da Desio quindi abbiamo una bella rappresentanza insomma i Lombardi non manca dicevamo appunto nell'era dell'immagine tu hai studiato scrivi e studi televisione immagine dal grande fratello in qua non c'è proprio più nulla da immaginare vediamo tutto la televisione ci porta in casa tutto salvo che questo evento è la scorta di invisibile che la Chiesa deve conservare per il mondo contemporaneo credo in questo suo essere una struttura una struttura mondana una struttura come come quelle di cui l'uomo ha bisogno è proprio per questo così esposta a critiche e quante ne sono venute anche negli ultimi anni però non è per per essere criticata che sta al mondo la Chiesa sta per conservare questa quest'aurea di mistero sta per conservare questa scorta di invisibile appunto che stranezza delle stranezze in realtà è invisibile una cosa di cui noi sappiamo esattamente tutto perché mai come per questo conclave ci sono stati appunto sui giornali in televisione ricostruzioni minuziose di quello che accadrà salvo che poi è come se fosse tutta una simulazione e il segreto il mistero è il segreto diciamo nei prossimi giorni che cosa accadrà accadrà che il segreto della storia di una persona si incontrerà con un mistero più grande che è il mistero della Chiesa ed è un punto in cui si toccano tanto è vero e si toccano in quella famosa stanza delle lacrime che è il momento dell'accettazione il momento in cui questa cosa che teoricamente può accadere a ciascuno dei cardinali che è chiuso di dentro a uno accadrà e questo non è solo un cristiano tra l'altro perché si è sempre questa cosa di poter votare diciamo che probabilmente sarà uno dei cardinali ecco su questo io non amo le previsioni però su questo mi sbilaggia che lascia sempre un margine anche lì di meraviglia magari hai visto mai la storia qualcuno è stato pescato anche da fuori nella stanza delle lacrime il nominato papa può rimanere tutto il tempo che crede penso che sia forse l'ultimo momento in cui si è lasciato all'uomo alla persona di dire tutto se stesso al se stesso che c'è in lui puoi starci quanto vuoi subito dopo probabilmente si incomincia a chiedere all'eletto di essere davvero di essere un altro di essere un altro di essere il vicario di Cristo in terra di non dimostrare emozioni dolore io credo che la grande umanità che ha dimostrato benedetto che è stata capita dalla gente perché in fondo i sentimenti forti le persone poi tutti noi li capiamo con facilità c'è un linguaggio anche del corpo che è evidente che travalica i confini sia stato questo dire seppure con semplicità in un modo abbastanza teutonico lineare da professore però dire anche l'emozione l'emozione di una scelta che penso gli sarà costata moltissimo sarà davanti alla televisione adesso e immagini ma chi lo sa anche perché un po' di curiosità immagino ce l'abbia ce l'abbia sicuramente per tornare alle questioni invece che potrebbero ridisegnare davvero la storia della fede e anche ovviamente di diverse nazioni c'è questa possibilità concreta che il prossimo Papa sia un americano poi statunitense o canadese però sarebbe comunque una novità assoluta un concetto nuovo anche per i fedeli per gli italiani e non solo per tutti gli europei che però potrebbe riequilibrare in qualche modo assetti che siano economici ma anche di fede ma di spostamento di fedeli tante cose tutte insieme che potrebbero uscire secondo quella fumata bianca da quel comignolo che abbiamo visto è possibile questa scelta ma in che modo potrebbe influenzare il mondo io credo che l'aspetto interessante di questo protagonismo dei cardinali americani statunitensi e dell'America latina stia anzitutto in questo al di là di quello che sarà il risultato poi alla fine dieci anni fa la chiesa cattolica negli Stati Uniti era in una posizione di crisi molto profonda i primi scandali erano emersi avevano colpito duramente anche figure molto autorevoli dieci anni dopo questa è una chiesa che come fa da 21 della chiesa ha mostrato di uno scatto è rinata è cresciuta in autorevolezza è cresciuta nella stima non soltanto dei fedeli del suo paese ma anche a livello mondiale la chiesa non diversamente la chiesa dell'America latina è da sempre considerata una chiesa giovane una chiesa con risorse inaspettate anche questa passata attraverso le sue crisi noi ricordiamo cosa è stata la lacerazione a un certo punto nella teologia della liberazione ma è una chiesa di nuovo autorevole punto di riferimento riconosciuto per la società oltre che per i fedeli la chiesa delle americhe chiamiamola così c'è anche qualche canadese che è considerato in una posizione interessante è una chiesa che dimostra che questa partita con la modernità con la contemporaneità che tanto ci spaventa può essere affrontata può essere vinta addirittura crescendo in prestigio e crescendo in otrevolezza quello che un po' è silenzioso in questo quadro delineato da Alessandro molto bene è la chiesa di altri paesi emergenti lasciamo per un attimo la chiesa africana la questione del Papa Nero ho l'impressione che tante volte sia una questione folclorica oltretutto si è indicato il cardinale Turkson ma il cardinale Turkson è abbastanza eganese ma è abbastanza romano perché è responsabile di un pontificio consiglio quindi non è nero o bianco è per esempio la chiesa africana che è in grossa difficoltà e la chiesa certamente del sud-est asiatico sarebbe forse un bel segno un Papa che venisse da quelle zone perché c'è una situazione per esempio in Cina di persecuzione detta la cattolicità gravissima siamo ancora a livello della chiesa del silenzio ricordo quando venne in Italia due anni fa il cardinale Zen e raccontò che lui stesso era stato poi in campo di concentramento ma le vessazioni molto gravi cui erano sottoposti molti suoi sacerdoti molti suoi vescovi non è un mistero per nessuno che la Cina abbia da questo punto di vista abbia una politica che tende a perseguitare e diciamo a perseguire se non a perseguitare una debolezza di tutte le religioni da questo punto di vista anche dell'Islam per esempio ha una condotta feroce verso l'Islam ma nessuno lo dice ecco mi pare che benvenga la chiesa americana che è portatrice certamente anche di molte istanze sulla frontiera del terzo millennio ma la chiesa africana e la chiesa dell'estremo oriente è vero perché poi gli studiosi appunto leggono o un alle volte aperture verso un papa che sia come dire celebrativo nei confronti magari di paesi un po' dimenticati ma con un numero di fedeli molto alto e allora torna l'idea del sudamericano oppure invece risolutivo e quindi che cambi e che risolva problemi in paesi emergenti ma appunto del sudeste asiatico o africani in qualche caso e su questo appunto sulle lotte di potere sul potere dello stato che sta dietro poi magari a questo o a quel cardinale si innesta anche un altro discorso che invece è molto interno al Vaticano ma tocca tutta la chiesa che è quello dello Ior se ne è parlato tantissimo in questi giorni uno dei punti chiave direbbero i politici uno degli otto punti che deve assolutamente considerare il nuovo papa e ovviamente la linea della chiesa dovrà andare a risolvere questa questa situazione che ancora non è non è chiara come la vedete ma io la vedo come una delle questioni aperte non da oggi la gestione del del tesoro della chiesa che non è un tesoro che la chiesa questo forse va ricordato tiene per se stesso ma che per se stessa ma che investe in opere di carità in opere di prossimità in tutto il mondo opere che sono caratteristiche della chiesa ma non esauriscono il suo compito questo va sempre ricordato è una questione che va avanti da molto tempo io sinceramente non ho né la competenza tecnica per poter giudicare né una conoscenza che va dal di là di quelle famose carte di cui tu parlavi che sono state rese pubbliche rispetto alle quali comunque l'impressione è sempre di una visione abbastanza parziale abbastanza incompleta è chiaro che è uno dei temi si ricordavano prima le occasioni anche di dolore di sofferenza per la chiesa e la chiesa qui davvero è dal papa fino all'ultimo dei fedeli che si sente toccato da qualsiasi forma di infedeltà credo che questo sarà uno degli argomenti credo che se ne parli tanto sui giornali anche perché è uno degli argomenti più facili da raccontare in realtà con su tutto ovviamente questo molto comprensibile ai fedeli la linea che può essere quella del francescano invece che e allora l'accusa della chiesa troppo ricca con troppi fasti potrebbe essere in qualche modo spazzata via in questa maniera qua poi bisogna metterla in concreto però un altro dei punti da risolvere beh certamente questo è uno dei punti forti io vorrei tradurlo con una frase forse che è più onnicomprensiva una chiesa capace di stare sia al passo con i tempi ma soprattutto al passo con la gente con tutte le persone di questo miliardo e 200 mila persone e 200 milioni di persone che sono i cattolici nel mondo si dice per esempio il potere dell'America intesa come Nord America i cardinali canadesi americani statunitensi non c'è dubbio per esempio ricordiamo che l'America ha avuto in epoca contemporanea moderna un solo presidente degli Stati Uniti cattolico che è stato Kennedy e in quel caso ci furono anche delle polemiche quindi le cose bisogna poi guardarle con attenzione è indubitabile che una delle questioni più urgenti e importanti è quella di un rapporto diverso non solo dei principi della Chiesa ma della cristianità tutta con i modelli di sviluppo con i modelli di prossimità non a caso Benedetto XVI in un'enciclica che è veramente straordinaria come la Caritas in Veritate ha affrontato il tema dell'economia di comunione quella che noi con uno slogan possiamo chiamare l'economia di comunione cioè il modello di sviluppo economico sostenibile e questa frontiera credo che sarà uno dei temi forti che dovrà affrontare un Papa in futuro Prem'interruzione l'ultima di nuovo pubblicità poi torniamo in diretta tra poco Il fatto del giorno di nuovo in diretta non ci sono novità stiamo guardando il comignolo della Cappella Sistina in diretta con le immagini che vengono direttamente da San Pietro non c'è stata ancora alcuna fumata la prima è attesa come detto per le 19.30 circa quindi la seguiremo all'interno del nostro TGN sempre in diretta con abbiamo detto la grande presenza di scuola che potrebbe essere uno dei papabili ma non è l'unico che viene dalla nostra regione in particolare dalla diocesi di Milano Anna Maria Sì dei 28 cardinali italiani ben 6 vengono dalla Lombardia fra gli elettori in verità sono 7 ma gli elettori sono 6 di questi uno è originario di Dorno che è in provincia di Bergamo ed è il cardinale Giovanni Battista Re e quindi è bergamasco gli altri 5 sono Ambrosiani cioè della chiesa di Milano e sono ovviamente il cardinale Scola che è nato a Malgrate che è in provincia di Lecco quindi Brianza Lecchese poi c'è il cardinale Dionigi Tettamanzi che anche lui è di un'altra parte della Brianza Renate poi c'è il cardinale Ravasi Gianfranco Ravasi anche lui Brianzolo di Osnago e poi ci sono il cardinale Attilio Nicora che è Varesino di Varese e il cardinale Francesco Coccopalmerio che invece è milanese si aggiunge il cardinale Giacomo Biffi che è stato arcivescolo di Bologna e che non entra in conclave come elettore perché ha superato gli 80 anni che poi a immaginarsi queste persone di grandissima cultura di grandissima fede di Malgrate per esempio che parla con l'indonesiano col tailandese mette insieme gli intenti per trovare il futuro della chiesa tutta straordinaria e si fa da sempre tra l'altro la chiesa è cattolica fortunatamente ha questa dimensione universale che non è genericamente cosmopolita non è il discorso che queste mi colpisce molto quando si dice guarda quanti lingue parlano i cardinali c'è un record ma mi pare su dieci lingue quelle quelle è